Buona giornata amici, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV con la quale iniziamo la programmazione della giornata, oggi una giornata serena, assolata, quindi dovrebbe essere veramente una giornata attiva per inizio della settimana. Ci sono diverse notizie importanti sui giornali, quelli a carattere nazionale parlano diffusamente della immigrazione nella giornata di oggi rispetto agli arrivi che stanno rimando proprio spronbattuto dall'Africa e vediamo anche l'assemblea del Partito Democratico che ha consacrato l'elezione della Schlein come segretaria del PD appunto a livello nazionale. Noi come sempre parleremo delle notizie a carattere locale passando però per l'almanacco del giorno e vediamo che oggi, oggi si festeggia San Rodrigo di Cordova, un santo ovviamente spagnolo, visse nel nono secolo quando la Spagna era occupata dai musulmani. Fu oggetto di persecuzioni per la sua fede cristiana, fu incarcerato e condannato a morte, subì il martirio per la sua fede, fu dunque decapitato. Questo è San Rodrigo di Cordova. Le previsioni del tempo? Le vediamo sulla grafica del Corriere Adriatico. La giornata è stabile e asciutta, vediamo il sole che appare un po' in tutta la regione con una nuvolosità irregolare. Le temperature sono in aumento, raggiungeranno i 22 gradi nelle ore più calde della giornata, le minime si sono attestate agli 8 gradi. Vediamo che i venti sulle coste espireranno da sud-est mentre nell'interno da sud-ovest e il mare continua a essere mosso. C'è un leggero vento che espira appunto dalla Croazia, viene da quelle parti. Ed ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico, vediamo la pagina di Fano. Eccola qua, l'apertura sulla pagina di Fano. Si parla della Basilica di Vitruvio. Ancora non cessa di fare parlare di sé questo entusiasmante ritrovamento che è stato fatto in un cortile, in un cortiletto così anonimo, diciamo così, di una piccola casa in via Vitruvio a Fano. Però un sito molto interessante dal punto di vista archeologico, perché siamo nella zona pubblica dell'antica città, dell'antica Fanum Fortune. Siamo in zona Foro, Foro Romano. Nei pressi abbiamo il Grande Tempio che è stato scoperto alla fine del 1800. Al lato abbiamo il teatro, abbiamo la zona ipogea della Mediateca Montanari. Ed ora questo ritrovamento che è stato fatto all'interno di un cortile, a una profondità di circa due metri, due metri e mezzo, siamo insomma allo strato romano, di un pavimento marmoreo con marmi pregiati provenienti da lontano, provenienti dalla Grecia, provenienti dalla Turchia, fa supporre che quello sia un edificio pubblico di particolare importanza. E il pensiero che sia la Basilica di Vitruvio ha animato molto sia la sopraintendenza che è l'amministrazione comunale di Fano, che ora cercano entrambi di ampliare gli scavi per avere conferma di questa ipotesi, di questa supposizione. Il presidente del centro studi Vitruviani, Dino Zachilli, dice che se questa è la Basilica bisogna espropriare tutta l'area. Ebbene, un importante intervento di carattere finanziario perché poi gli scavi potrebbero essere estesi anche nella via Vitruvio, nella via Limitro, fa sotto l'abitazione, sotto altre abitazioni per mettere alla luce quella aula grande estesa che faceva parte della Basilica di Vitruvio. Però è bene ancora non vendere la pelle dell'orso prima di averla ucciso, insomma prima di aver capito veramente che quella è la Basilica di Vitruvio. Infatti sui giornali oggi ci sono delle perplessità. Ci sono delle perplessità perché per esempio l'ex sovrintendente Gabriele Baldelli, che pure è un fanese, ha detto ma se si sono trovati cinque piccoli ambienti è difficile che sia la Basilica di Vitruvio, è molto più facile che quelli siano gli ambienti del portico che circondava il foro romano. Ebbene di questa ipotesi è anche Paolo Clini, lo vediamo qua sul resto del Carlino, quando si parla appunto ancora della Basilica, il titolo è Sognando la Basilica di Vitruvio il ministro verrà a vedere gli scavi. L'onorevole Antonio Baldelli annuncia, ho interessato il ministro San Giuliano, presto faremo un sopralluogo. Se viene il ministro verranno anche i finanziamenti, così si spera. Però intanto Paolo Clini, del centro studi Vitruviani, è stato il coordinatore scientifico, invita la cautela. Servono approfondamenti topografici, ha detto. Vediamo quali sono le sue le sue dichiarazioni. Invita alla cautela il professor Paolo Clini, docente dell'Università Politecnica delle Marche, fondatore e per dieci anni coordinatore scientifico del centro studi Vitruviani, uno dei massimi esperti della Basilica. È stato quello che ha così animato il centro studi prima di Oscar May. Oscar May è un insegnante di archeologia dell'Università di Urbino, noto per le sue ricerche, sia a Fossombrone che nella città romana di Cirene in Libia. Da trent'anni, ha detto Paolo Clini, studio la Basilica di Fano, a cui ho dedicato gran parte della mia vita accademica, anche curando i rilievi 3D laser topografici dell'intera area. Bene, le ricostruzioni che ha fatto l'Università di Ancona a questo proposito sono veramente importanti, significativi per comprendere qual era l'edilizia dell'antica Fano un Fortunio. Insomma, si entra dentro una città antica, si vedono il teatro, si vede il foro, si vede la ricostruzione ipotetica della Basilica, così come avrebbe dovuto essere. Sull'apertura fatta della sovrintendenza sulla Basilica, dico, andiamoci piano, dice Paolo Clini. Quello che è stato ritrovato non ha nulla a che vedere con la descrizione che fa Vitruvio, molto accurata, della sua Basilica, tranne che per un punto dove si riferisce ai cinque piedi dello spessore delle mura. Anche qui i cinque piedi corrispondono a un metro e mezzo della larghezza dei muri che sono stati ritrovati, ma di questa misura sono anche i muri che sono stati trovati all'interno degli scavi di Sant'Agostino, appunto in quella zona ipogea sotto il convento. Dunque, da una parte si sogna, da una parte ci sono elementi, ci sogna non tanto, ci sono elementi che possono far così pensare alla Basilica di Vitruvio. Dall'altra però dice ragazzi andiamoci piano perché poi la situazione deve essere documentata con l'estensione di ulteriori indagini, di ulteriori ricerche. E questo è per quanto riguarda la Basilica di Vitruvio. Ora torniamo al Corriere Adriatico e vediamo le altre notizie. Sgambatoio tra maleducazione e disservizio, disagi a San Lazzaro, le aree per cani presto a Trave Centinerola. Si parla di sgambatoi, queste aree molto richieste dai proprietari dei cani che possono far passeggiare i loro beniamini, i loro animali in tutta sicurezza e mentre si procede con la realizzazione di due nuovi sgambatoi alla Trave di fronte al centro tennis, quindi nella zona polisportiva della Trave e poi a Centinerola, vengono di nuovo segnalati problemi nell'utilizzo di quelli che sono già esistenti, occorre cura e manutenzione. Tutta colpa dei frequentatori disinvolti che in particolare a San Lazzaro attentano ad una sana convivenza con i loro atteggiamenti scorretti, anche per mettere a repentaglio, anche così che possono mettere a repentaglio la salute degli animali. Niente di inedito, ma proprio perché si tratta di casi che vengono reiterati nel tempo occorre che si giunga ad una soluzione. Accade che spesso non vengono raccolte le deiezioni, quindi c'è un problema anche di igiene. Accade che si permetta ai propri animali di scavare buche senza che poi si provveda a riempirle. Insomma, ci sono questi comportamenti scorretti che vengono messi al ribalta da questo articolo. E poi in quest'altra pagina invece il Corriere Adriatico ha fatto un'indagine sui prezzi del mercato dell'ortofrutta di piazza Andrea Costa. Nella giornata di sabato venne discorso, era una giornata nazionale dedicata all'ortofrutta dalla Col di Retti. Ebbene l'ortofrutta è un po' in crisi a causa della siccità, la produzione è carente, risente appunto della mancanza di acqua, i prezzi sono saliti. Lo vediamo qui in questa tabella. Vediamo che alcune specialità particolarmente ricercate, come per esempio il radicchio trevigiano è arrivato a 12 euro al chilo, veramente una cifra considerevole. I fagiolini che provengono dall'estero costano 9 euro, quelli invece che sono un po' nostrani si attestano sui 4 euro, comunque anche 4 euro non è poco. E poi vediamo altri prodotti, come le arance che vanno da 2 a 4 euro al chilo, le mele vanno anche sui 3 euro e mezzo, ma anche 4 secondo della qualità, i mandarini 3 euro e mezzo, le melanzane da 3 euro e mezzo a 5 euro. Le cipolle 4 euro, le pere 4 euro, le fave prodotto di stagione 5 euro al chilo e vediamo anche i kiwi a 6 euro, le noci a 8 euro al chilo. Insomma sono cifre piuttosto considerevoli che hanno subito degli aumenti rispetto al recente passato, così possiamo definire. Ma a parte il mercato ci sono anche dei modi di acquisto diversi. Vediamo per esempio che i risultati positivi stanno tenendo il GAS, ovvero il gruppo di acquisti solidali che nella nostra città raccoglie quasi 400 famiglie. E poi c'è l'organizzazione di primo raccolto che mette in diretto contatto i produttori con i consumatori creando una piattaforma internet in cui è possibile acquistare i prodotti che vengono poi consegnati a domicilio. Facciamo un esempio, un box contenente ortofrutta per 6 kg viene venduto a 22 euro e mezzo. Ebbene cosa contiene questo box? Contiene un chilo di finocchi, un chilo di cavolo cappuccio, 500 grammi di spinaci, 500 grammi di insalata, 500 grammi di porri, un chilo di citole, 500 grammi di rape, 500 grammi di cipolle e un chilo di versi. Dunque una varietà che sembra veramente un quadro di Bertoldo. Insomma quei quadri belli con tutte quelle immagini agresti, orticole, così definiamole meglio, che danno la fisionomia di una persona. Ed ora vediamo una notizia che giunge da Cartoceto dove l'opposizione invita la Giunta a curare meglio il sistema idrico delle strade con ete intasate e la pioggia non defluisce. Eccolo qua il titolo. Il gruppo di minoranza di Cartoceto rivendica l'ordinaria manutenzione. Ogni volta che piove a Cartoceto, numerose importanti vie come via Pieve, via Rio Cupo e altre sono intasate, così come le cunette, perché manca la manutenzione necessaria e per questo mette sotto accusa gli operai del Comune che insomma non interverrebbero con una, diciamo così, accusa l'amministrazione comunale più che gli operai che non interviene con il dovuto tempismo per curare la manutenzione delle strade e quando piove, piove raramente, ma quando piove piove intensamente per cui se ci sono le fogne intasate tutto si allaga. Ecco perché questo articolo che reclama interventi più puntuali, più efficienti. A Pergola. A Pergola si parla di sport, talento e orgoglio. In un giorno centrate due promozioni in C. Esulta il GS Voli Pergola per le squadre maschile e femminile, territorio unito ai giovani cresciuti. Ebbene l'avviamento allo sport è particolarmente efficace nel pergolese. Poi si parla a fondopagina di un incidente stradale. Schianto, soccorsi un bambino e un'anziana. L'urto tra due auto sulla Cesanense, questa strada sempre pericolosa per i feriti, però solo lesioni lievi, per fortuna. L'incidente si è verificato al bivio di Via De Gasperi lungo la Cesanense ieri nella tarda mattinata. Restano ferite due persone, un'anziana e un bambino di 11 anni, portati per accertamenti all'ospedale Santa Croce di Fano. È successo alle 12.30 di ieri, quando per cause che sono al vaglio dei carabinieri, una Skoda Karok ha urtato una Fiat Bravo condotta da un'anziana mondolfese di 78 anni. Ebbene tutti e due feriti appunto all'ospedale. comunque non sono in gravi condizioni. Vediamo Senigallia. A Senigallia si parla ancora della morte dell'ex Assessore Monachesi. Lo sfogo della figlia per quanto riguarda le dichiarazioni del Sindaco in risposta a quell'istanza di dedicare a Monachesi una via. Il Sindaco aveva precisato che bisogna trascorrere dieci anni perché questo possa essere realizzato. Ebbene questa dichiarazione non è piaciuta molto alla famiglia che ha detto piuttosto che puntualizzare questa cosa burocratica era meglio che lui parlasse invece dell'umanità del defunto. Questo era il desiderio della figlia. E poi in realtà per quanto riguarda quello che ha dichiarato il Sindaco Olivetti c'è anche da disquisire perché tante volte è stato fatto a Senigallia un anticipo delle denominazioni rispetto a dieci anni. Per esempio per lo stadio Bianchelli, per il pattinodromo Stefanelli, per Piazza Rosi e per la sala consigliare Giuseppe Orciari intitolata l'ex Sindaco solo a pochi mesi dalla scomparsa. Quindi anche qui i dieci anni non erano affatto trascorsi. Questo è quanto appunto si rivendica. E ora vediamo qualche notizia di Pesaro dove si parla del restyling di via Giolitti. Il progetto c'è già. Parte il cantiere della ciclabile di via Fratti ma l'assessore Belloni guarda avanti. Si tratta del secondo step. Il comune è impegnato a intercettare i fondi. I lavori per la ciclabile di via Fratti dureranno fino al 10 luglio con il ristringimento della careggiata. Il limite di velocità che sarà posto sarà di 40 chilometri. Allora ci sarà anche un divieto di sorpasso e di fermata. Prevista una rotatoria all'altezza di via Madonna di Loreto. Il progetto costerà 500 mila euro per quanto riguarda il primo gradino. Il secondo riguarda invece via Giolitti. E lì è tutto da definire ancora. Miniucchi. La scultura dimenticata. Riportiamola al centro del moletto. Appello al comune per ridare l'originaria collocazione all'opera dell'artista scomparso di recente. E qui vediamo nella foto di Dario Picciao la scultura Arim. Questo è il titolo della scultura. E nel riquadro l'artista Gabito Miniucchi scomparso l'8 marzo scorso. Eccolo qua. L'artista scomparso. E poi diamo invece rilievo ad un progetto della Caritas. Si chiama PRINCE. È un acronimo che significa pronto intervento sociale. Riguarda gli ultimi. Riguarda i diseredati. Renderemo più efficienti i servizi. Il comune, la Caritas e la Croce Rossa scendono in campo per realizzare un progetto rivolto alle fasce di povertà estrema. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 197 mila euro. Sono fondi europei e ministeriali. L'obiettivo è quello di attivare un centro servizi per il contrasto alla povertà estrema e la marginalità. Rendendo gli interventi nei confronti delle persone più fragili, in particolare i senza fissa dimora, sempre più efficaci e capillari. L'obiettivo è dar vita ad una regia unitaria tra questi tre enti per rendere ancora più pregnante l'accoglienza, l'accesso e la fornitura dei servizi. Così ha spiegato l'assessore alla solidarietà Luca Pandolfi. Servizi che sono già presenti nel comune di Pesaro ma che ora verranno ulteriormente potenziali grazie grazie appunto a questa iniziativa. E ieri c'è stata una manifestazione a Pesaro contro le strangi in mare, contro appunto i naufragi così disastrosi, così violenti. Un altro barcone vicino alle coste della Libia è affondato e anche lì ci sono stati tanti tanti altri morti. manifestazione davanti alla prefettura organizzata da 36 associazioni e single. Una manifestazione importante con rilievi anche di carattere politico. Finite le riprese di Animale Libero, film con artisti e talenti della regione. Il regista è un fanese. Si tratta di Henry Secchiaroli, Henry Secchiaroli. Ebbene il set che è a Monte Cerignone, un ambiente particolarmente selvaggio che doveva essere fare da cornice alle riprese del film, è stato visitato dal presidente della Fondazione Cultura Marche. Si tratta del presidente Agostini, un lavoro di qualità. È un lavoro particolare a cui il regista tiene per presentarlo poi ai festival e quindi fare vedere come anche a livello locale si sta realizzare opere di pregio. È un lavoro molto complesso che si è avvalso anche di un animale, un cane lupo. Non so se è un lupo o un cane lupo, ma ha domesticato, che quindi sapeva benissimo condurre le azioni che venivano suggerite dal suo addestratore. Finite le riprese di Animale Libero e siamo impazienti di vedere il risultato. Ed ora invece apriamo la prima pagina del resto del Carlino per vedere un sunto delle notizie che vengono ampliate nell'interno il Carlino Marche. E vediamo che per quanto riguarda la provincia di Pesaro Urbino si dà grande rilievo, come abbiamo detto, ai ritrovamenti in via Vitruvio. Basilica di Vitruvio anche il ministro vedrà gli scavi e si attende alla visita di San Giuliano. E poi si parla di questa manifestazione contro i naufragi in mare, l'ultimo per esempio quello di Cutro, si tini in piazza giustizia per le vittime. E poi una truffa si fa dare. 2000 euro per un lavoro è stata condannata. Lo vediamo qui. Vediamo anche in sintesi le notizie delle altre province. A Dancona il lungomare ha già punti rovinati. A due mesi dalla fine dei cantieri spuntano i problemi nella passeggiata. Anche la nuova balaustra è scorticata. Tante le segnalazioni per intervenire di nuovo. Liste di attesa. Il CUP alza le mani. Gli ospedali non danno più disponibilità. Mamma mia. Le liste d'attesa. Quanto è difficile ottenere un servizio efficiente. Donna tenta il suicidio due volte sempre salvata nello stesso giorno. Anche questa è una notizia che viene riportata dal resto del Carlino. A Macerata si parla invece della frana che si è verificata in via Vergo. Sono pronti in questo caso 600 mila euro per sistemare la careggiata. E poi ad Apiro invece, un bellissimo paese nei pressi dell'Appennino, allarme lupi sono stati avvistati vicino al centro. A San Marrone un piromane in azione durante la notte bruciata un'auto. Ad Ascoli e nella provincia di Fermo si ribalta in macchina tornando al lavoro ferito un ragazzo di 19 anni. Invece a Porto Sant'Elpidio una ragazzina vince il talent The Voice Kids. Quindi è un successo per questa ragazzina. Mentre poi si rievoca la tragedia di una bambina che annegò in una piscina. In questo caso viene posto a processo il padre. Dati alle fiamme gli ombrelloni messi in spiaggia per pubblicizzare il Piceno a San Benedetto del Tronto. Bene, questi sono un po' un panorama delle notizie che vengono appunto evidenziate all'interno. Apriamo il giornale sulla pagina della provincia di Pesaro Urbino e vediamo una imprenditrice. Si tratta di Isabella Avanti Fiori. Eccola qua nella fotografia. Ebbene è una pesarese che ha avuto dei contatti molto molto precoci con Amazon. C'è una pesarese dietro l'operazione Iesi. Ora Mini Hub pure qui. Ebbene l'imprenditrice Isabella Avanti Fiori insieme all'avvocato Federico Gori nell'estate del 2019 fu la prima ad agganciare il closso dell'e-commerce. Mi aiutò un mio amico dei Marines ha detto ora abbiamo dei progetti in provincia. Quindi anche la provincia di Pesaro sarà interessata dall'avvento di questo grande complesso nelle Marche. E poi parliamo della manifestazione che si è svolta ieri in piazza del popolo a Pesaro su contro la strage di Cutro, ovvero contro tutte le stragi, contro tutti i naufragi che si stanno verificando in Mediterraneo. Strage di Cutro, la piazza del dissenso. Verità e giustizia per le vittime. Questo viene reclamato. Sittini in piazza davanti alla prefettura dei rappresentanti di circa 40 associazioni provinciali. Le fasce bianche legate strette attorno agli omeri o nel cartello con la frase pronunciata dal ministro Piantedosi. Non dovevano partire. Ma quel verbo partire è stato sostituito da morire. Non dovevano morire. Quindi è limitativo dire non dovevano partire. Ieri in piazza del popolo a Pesaro si è tenuta la manifestazione davanti alla prefettura per chiedere verità e giustizia per le vittime di Cutro, di cui ancora purtroppo si stanno recuperando i corpi. Questa manifestazione serve anche a far capire che siamo esseri umani e che è bestiale far morire le persone. In questo modo hanno spiegato Vania Shumbata, segretaria confederale della CGL, e Luigi Marini dell'Associazione Mediterranea Saving Humans di Pesaro. Vanno riviste completamente le politiche migratorie a parere di queste associazioni. Insomma, quello che sta accadendo veramente deve scuotere tutte le coscienze per evitare che si ripetano ancora queste cose. Purtroppo però, vediamo, all'ultimo caso si è ripetuto e quindi veramente siamo alle strette. Sognando la Basilica di Vitruvio ne abbiamo già parlato, quindi possiamo passare alle notizie di sport. Vediamo sul Corriere Adriatico. È andata male per la Vis. Purtroppo sabato scorso la Vis si trova ormai davanti a un bivio. Domani bisogna per forza vincere. Dopo il fragoroso KO di Siena, perduta la partita per 4-0, diventa indispensabile battere il Montevarchi. Caduta fragorosa, così viene definito il risultato della partita di sabato. E non è purtroppo la prima dell'ultimo periodo. Sì, perché dopo aver inaugurato l'anno solare 2023, con una serie di risultati utili, erano abbastanza buoni, una serie di risultati. Erano dunque tre pareggi e quattro pari. Non so cosa significa tre pareggi e quattro pari. Insomma, è la stessa cosa, però vediamo un po'. Insomma, bisogna rinserrare le fila. Vi faccio il riassunto di questo articolo. C'è anche il Oscar Brevi, che insomma ormai è alla frutta anche lui, perché veramente dopo una serie di risultati negativi o si comincia a risalire, oppure il declassamento è una cosa ormai improcrastinabile, si può dire. Ma invece solleviamo così l'entusiasmo dei tifosi, solleviamo l'entusiasmo dei tifosi parlando dei Granata. Il Fano in zona playoff, battuto il Matese in rimonta, grazie alle reti di Allegrucci e Nianghe, conquistato il quinto posto. quindi abbiamo un risultato molto, molto proficuo per il Fano che va in zona playoff. Adesso ce la giochiamo, ha detto Mosconi. E con questa notizia possiamo chiudere la nostra rassegna stampa. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie per l'ascolto.